E cioè poi bordello, siamo arrivati, eravamo in mezzo al torneo e abbiamo iniziato a buccare dei palloni, tirare giù le reti perché questo è il beach volley, quindi mi sembra giusto, sono arrivato e c'era una festa, mi sono fatto prendere anch'io, spaccavamo tutto, tirava la sabbia, poi Jack e Ross sono l'emblema del kick loss, quindi gli ho segnato la macchina, perché la gente con le buone o le cattive deve capirlo che questo è il 4x4 kick loss. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Sì! Ciao a Buracca! Oh! Viva Kiko! Stai facendo il video? Bravo, bravo! Le valedette della cittoria il bimburrà! Scusa, la vita è un... Aspetta! Aspetta! L'icro! Cazzo! Ho perso la mia porta da spianza! No, no, no! Asspetta! Passa! Grazie a tutti